Il Sindaco ha cercato di buttare la palla in angolo, come si dice, perché è in chiarissima difficoltà. C'è una maggioranza che ha addirittura per tre volte rinviato questo punto che era in discussione all'ordine del giorno e viene a chiedere all'opposizione come la pensa. Finalmente oggi riusciamo a dire quello che pensiamo perché siamo stati impediti in Consiglio Comunale di discutere di questa cosa per tre mesi di seguito. È da luglio che questa delibera va avanti e dietro e non riesce ad essere in grado di essere votata. Questo è un atto gravissimo che il Sindaco ha fatto e ha compiuto per le divisioni chiarissime nella sua maggioranza, tant'è che molte assenze oggi e molti imbarazzi da parte della maggioranza perché dentro la maggioranza non si era assolutamente concordi. In assenza del capogruppo Ricotta è toccato lei svolgere questa funzione in una seduta molto calda del Consiglio nella quale si discuteva della sua Giorgini che ha comunque in questi mesi diviso il Partito Democratico? Sì, l'intervento è stato anche in questo senso. Non è che ha diviso, ci sono stati dei grandi dialoghi all'interno del Partito Democratico, ci sono state varie posizioni, alla fine è emersa la posizione a sostegno del Sindaco con, diciamo, rafforzativo quello di estendere il vincolo su tutta l'area relativa a San Claudio e aprire un dibattito con Corridonia.